ben a tutti ragazzi di Minecraft Italia, qui è Berto e oggi sono in compagnia di CrazyMiner e vi presenterò la nostra casa in un server TechKit bene, questo qua è il server di Forgotten World dedicato appunto a TechKit e in questo video vi farò vedere le nostre creazioni come potete vedere Crazy ha la nano switch switch? come cazzo si dice? non ricordo come è che si dice Crazy? nano switch nano switch bella Crazy non è ancora salutato, saluta bene ok dai Crazy facci vedere le tue costruzioni perchè alla fine hai quasi fatto tutto a te è timido bene ve le presenterò io allora allora Crazy ha creato diciamo questi strumenti strumenti base la compressore la fornace il maceratore e il centrifugatore ovviamente quelli potenziati che possono lavorare simultaneamente poi ha creato questo come si chiama? collancello no, com'è che si chiama questo io sono un abbo di TechKit ragazzi quindi... ah le pipe è vero quelle per portarvi la roba e serve per portare l'acqua diciamo il collancello per questo bel gioiellino del retto nucleare e con questo simpatico strumento creiamo l'energia che ci serve per far andare gli strumenti abbiamo creato i MFSU per accumulare l'energia e poi che altro che altro c'è Crazy da vedere beh adesso niente abbiamo in progetto di creare un generatore di diamanti solo che non sappiamo se sul server c'è o c'è è stato disabilitato oppure è disponibile perchè alcune cose OP sono state tolte come per esempio la bacchetta per rilevare i materiali quella è stata tolta comunque se volete un server serio perchè è ostato assolutamente non lagga ed è fatto bene gestito bene vi metto l'IP sotto e potete entrare vi servirà Techit la versione di Techit alla 2.1.2.5 sì dovrebbe essere 1.2.5 Ah Crazy ci siamo dimenticati di dire che hai fatto anche un bellissimo query che però è collocato nella mappa adibita diciamo agli strumenti come il query infatti è diviso in due mappe il mondo appunto questo dove si può costruire cose così e invece quello dei macchinari potenti che tipo come i query che diciamo rovinano un bel po' la mappa ovviamente fanno il loro lavoro si però guastano un po' e niente la nuke è disabilitata quindi non potete fare scoppiare la casa degli altri e niente per questo video è tutto vi saluto amici di Minecraft Italia vi ricordo di iscrivervi al mio canale Bertis Pro vi metterò il link in descrizione per vedere tanti altri video di Minecraft di Techit e anche di altri giochi un saluto ciao ciao saluta Crazy bella